Ciao ragazzi, oggi vi presenterò il nostro ufficio presente qui nella città di Sondrio, qui il quale si occupa dei servizi del calcio patronato e anche per i servizi delle traduzioni, quindi chiunque abita a Sondrio, ovvero chiunque abita intorno di Sondrio, che conosca il nostro carissimo amico signor Navas, può venire presso questo ufficio situato in via Mazzini numero 11, è proprio neanche distante dalla stazione di Sondrio, neanche 50 metri di distanza, per cui chiunque vuole soffrire dei servizi di questo ufficio può regarsi presso via Mazzini numero 11 Sondrio e vi prego gentilmente di condividere questo video con i vostri amici che magari hanno necessità per le traduzioni, per qualsiasi pratica del calcio patronato e poi mano a mano vi aggiorneremo, io sarò qui presente almeno una volta alla settimana, chi volesse incontrarmi il numero mio, ce l'avete già, se no vi lo ripetisco, 351-128-5153 e poi nel video vi lascerò anche il numero di questo ufficio. Per adesso è tutto, vi ringrazio, ciao ragazzi!